Buonasera a tutti, al trentesimo laboratorio della rete donne transfeminista, piccoli disclaimer di rito che siamo mai abituati a fare, si chiede a tutte le persone di spegnere i microfono a garantire un migliore audio alla registrazione e dato che il laboratorio viene registrato se non si vuole comparire in video di spegnere anche la fotocamera. Questo è uno dei laboratori che abbiamo pensato con la rete donne transfeminista di Archie Gay, che è uno spazio plurale in cui soggettività femminili, lesbiche, bisessuali, pansessuali, trans, gender non conforming, non binary, con disabilità, vivono questo tipo di spazio con lo scopo di fare sia elaborazione, sia formazione, sia supporto e di parlare appunto di tematiche femminili e femministe. Abbiamo oggi ospite, siamo molto contenti di avere qua Giulia Blasi. Ciao Giulia! Ciao! Giulia è giornalista, scrittrice, conduttrice radiofonica, autrice del libro manuale per ragazze rivoluzionari, edito da Rizzoni nel 2018 e è anche la persona che ha lanciato un tema che a noi sta molto a cuore perché quando si parla di violenza di genere è un tema su cui anche noi abbiamo elaborato tanto, quello che è stato l'hashtag quella volta che è stato appunto l'hashtag che ha anticipato il MeToo a quanto riguarda lo scenario italiano e che ha portato tantissime donne, tantissime persone a parlare di quelle che hanno le loro situazioni di molestie vissute e viste insomma. Giulia, partirei sostanzialmente un po' da qui. Come è venuto fuori con l'hashtag? Lo so te l'avranno richiesto negli ultimi due anni in 45.000 persone, però è per noi molto importante analizzarlo prima di tutto da un punto di vista del come è venuto fuori come esigenza, ma in particolare che risposta ha avuto dai social? Allora, effettivamente è una storia che ho raccontato un sacco di volte, però non mi dispiace mai riraccontarla da capo perché è una di quelle storie felici, nonostante nasca da una circostanza non felice, è una storia tutto sommato, è un incidente felice perché è venuto da un momento di grande irritazione e rabbia collettiva. Quando ho fatto la proposta al gruppo femminista con cui mi confrontavo da un po' di tempo che era una roba nata su Facebook come gruppo segreto dopo l'inlancio del Fertility Day da parte di Beatrice Lorenzin, perché io stavo con la bile fino qua e ho detto basta facciamo una manifestazione, facciamo una cosa, chi ci sta a fare? E abbiamo fatto un gruppo per vedere se riuscivamo a fare una manifestazione. Poi non l'abbiamo mai fatta la manifestazione, ci siamo unite poi ovviamente a quella di non una di meno, ci siamo andate con i nostri cartelli, vabbè tutta un'altra storia. Però dopo un annetto che avevamo aperto quel gruppo scoppia il caso Weinstein, Asia Argento ci va di mezzo in maniera pesantissima e noi ci ritroviamo davanti alla solita storia, cioè non esiste la vittima perfetta, la donna sarà sempre in qualche modo accusata della violenza che ha subito. Non importa quanto sei brava, quanto sei docile, quanto sei una ragazza che sta al suo posto, comunque in qualche modo te la sei andata a cercare. Lei poi che comunque era assolutamente la vittima perfetta, perché è una donna libera che ha sempre in qualche modo esibito la sua sessualità nella maniera che riteneva giusta per lei, una persona che non si è mai fatta problemi a vivere la sua vita in maniera assolutamente libera e a volte anche abrasiva rispetto alla morale comune e alla percezione comune di quello che dovrebbe essere una donna per bene. Ovviamente ci è andata subito di mezzo perché era il bersaglio perfetto, noi ci siamo arrabbiate, io mi sono proprio arrabbiata tantissimo, perché ho pensato questa cosa qua potrebbe succedere a me, potrebbe succedere a chiunque e a chiunque fosse successo, ci sarebbe stato lo stesso effetto, non importa il fatto che fosse lei, potevo essere io, poteva essere chiunque, allora ho detto perché non proviamo a raccontare tutte le volte in cui ci siamo sentite in qualche modo in pericolo, o ci hanno molestate, o ci hanno violentate, o abbiamo pensato che poteva succedere e poi magari non è successo ma è stato un momento in cui abbiamo capito che non eravamo al sicuro, che nessuno ci avrebbe creduto e che se ci fosse successo qualcosa probabilmente ci avrebbero accusate della stessa cosa che avevamo subito, perché ci eravamo esposte in qualche modo al pericolo, perché non esiste un modo sicuro di essere donna da nessuna parte. Quindi, vabbè io lancio sto hashtag su Facebook e dicono figo dai facciamolo, quindi ci organizziamo in maniera un po' alla Carlona, quindi tra di noi c'erano Caterina Coppola di Gaypost.it e Benetta Pintus, Beatrice D'Avela, insomma le ragazze di Pasionaria.it, loro dicono noi facciamo redazione d'appoggio, se le persone vogliono mandarci dei loro racconti, li riceviamo noi e poi li pubblichiamo noi. Io vado a teatro, quando esco da teatro mi stava esplodendo il cellulare perché Denise D'Angelini, l'indulità del cuore, era già partita su Instagram, mi era piaciuta sta cosa ed è boom, è partita in tromba, su Instagram l'hashtag è decollato immediatamente ed era il 12 ottobre. Il 13 l'abbiamo messo su Twitter, il 14 già stava cominciando a marciare, quindi mi chiama SkyTG24, che state facendo? Vieni lunedì a raccontarci questa cosa, il 15 la mattina Asia Argento rilancia il mio tweet di lancio, il pomeriggio partemi tu. Ok, questo è il 15 ottobre 2017, è proprio l'anno spartiacque, il giorno spartiacque perché è il momento in cui scoppia tutto, scoppia da noi e scoppia in America. Nel frattempo erano partite le francesi con Ballonstone POC, perché anche le francesi hanno fatto l'hashtag loro e non è che sono venute a telefonare a noi, era proprio una cosa che le donne in tutto il mondo hanno detto, questa cosa è successa anche a me, adesso ve la racconto e ve la racconto ognuna con la sua modalità. Noi abbiamo scelto una modalità narrativa, abbiamo detto, ok, lo iniziamo con, attacchiamo con quella volta che, perché poi ognuna ne avrà una, due, tre, quattro, cinque, venti, ok? E quindi io pensavo, vabbè, quattro, cinque giorni, poi gli mettiamo un bel fiocco sopra, diciamo, operazione riuscita, grazie a rivederci, venti giorni dopo io stavo ancora guardando lo stream. Quindi, dopo venti giorni non è più una campagna hashtag, dopo venti giorni è una cosa che è successo, è un evento che è successo. Ed è una cosa da cui non si torna indietro. Poi, negli anni, sono state fatte diverse operazioni, a parte fatto, la prima settimana io l'ho passata a fare tutte le interviste possibili, perché sapevo benissimo che non avevo tempo, che entro una settimana, lo smarrimento che vedevo nei media nazionali, che non avevano capito cosa stava succedendo, si sarebbe ricomposto, ci sarebbero arrivati addosso, come gli avvolti. Perché ci dovevano delegittimare, in qualche modo. E' uscito poi, a aprile del 2019, un sondaggio, un'inchiesta è stata fatta con un questionario anonimo da parte di Linda Laura Sabadini, ora presidente dell'Istat, che aveva scoperto che l'85% delle giornalità giornalista è stata molestata in redazione. Figuriamoci com'era possibile che dei direttori di giornale potessero vedere di buon occhio l'idea che si cominciasse a parlare seriamente di quello che avevano fatto, non dico loro, ma anche solo i loro colleghi. Perché qualcuno deve averle molestate, queste ragazze. Sì, se hanno quei numeri. Qualcuno deve averle molestate le mani. Non si sa chi, però, in qualche modo, da qualche parte doveva essere successo. Per cui ci hanno lasciato, io sarebbero poco tempo, in una settimana ho fatto tipo 12 interviste, 13 interviste, non so, ne ho fatto una valanga. Dopo una settimana sono arrivati gli avvoltoi. Però a quel punto io ero riuscita già a fissare i fondamentali. Da quella cosa lì, secondo me, non si torna più indietro. Nonostante ogni tanto ci sia qualcuno che dice, eh, ma mi tu è morto, mi tu è morto. Allora, a parte che si danno 10 euro per ogni volta che hanno dichiarato mi tu morto, mi compravo casa. Non un casone, eh, un appartamentino al pigneto. Però me lo compravo. Però il punto è che quella cosa lì è successa due anni e mezzo fa. Noi nel frattempo siamo andati avanti. Cioè, stiamo parlando letteralmente di rivoluzione transfeminista, stiamo parlando di ecofemminismo, stiamo parlando di femminismo antispecista, di femminismo antirazzista, delle intersezioni del privilegio. Cioè, stiamo parlando di una serie di cose avanzatissime e questi stanno ancora a frignare su una cosa che è successa due anni e mezzo fa. Direi che il problema non è nostro. E fanno un po' fatica a starci dietro. Eh, un po' sì. Cioè, stanno ancora lì. Cioè, c'è gente che ancora, se ti deve infamare, ancora si aggancia a quella cosa là. Cioè, tratta in modo dispregiativo una cosa che è successa due anni e mezzo fa, da cui noi siamo andati serenamente avanti, che però abbiamo portato a casa. Perché io personalmente, quando ho lanciato l'idea, non mi aspettavo niente. Niente. Zero. Poi, visto come è andata, quello che mi aspettavo e che era ragionevole aspettarsi era che ci fosse una ridefinizione del modo in cui parliamo di molestie di genere, molestie sessuali e in generale di violenza sulle donne. Ma anche in generale di rapporti di potere, perché c'era anche qualche uomo che ci ha raccontato le sue esperienze di molestia. E c'è sempre il potere di mezzo. Esatto. E a volte sono stati molestati da altri uomini, per cui c'è anche lo stigma dell'omosessualità sopra. A volte sono stati molestati da donne. Perché è una cosa rarissima, non fa assolutamente statistica, non è indicativa di una cultura all'interno del genere femminile. Non fa parte della cultura femminile, fa parte comunque della cultura patriarcale che privilegia gli uomini. Quindi comunque una donna che si comporta così sta assumendo su di sé dei codici. Sì. Noi per stare nel mondo del lavoro, e qui entriamo un po' nel nostro tema, cioè la leadership femminista, per stare nel mondo del lavoro e per essere competitive nel mondo del lavoro o nel mondo della politica in generale, in tutto quello che è un ambito pubblico, le donne sono tenute a soddisfare dei parametri che non sono stabiliti dalla cultura femminile e ai quali la cultura femminile non ha potuto contribuire. Cioè le donne non hanno potuto contribuire storicamente a stabilire i parametri di valore e di merito con cui noi giudichiamo le persone quando le persone si affacciano al mondo del lavoro. Quindi noi valutiamo positivamente delle doti che sono intrinsecamente legate all'educazione maschile. La sicurezza di sé, il verticismo, la capacità decisionale, la capacità di spingersi in avanti, di essere aggressivi, competitivi, individualisti, puntare al risultato anche e soprattutto personale, inseguire il successo e in qualche modo farsi leader sempre stando come punta di freccia e mai come rete o come circolo. La cultura femminile, non le donne, però la cultura femminile tradizionalmente è fondata su un altro tipo di suddivisione, non si basa sulla spartizione del potere perché le donne storicamente il potere non ce l'avevano. Cioè lo ereditavano ogni tanto dagli uomini infilandosi nei posti liberi e agivano il potere con le stesse dinamiche. Per cui una Elisabetta prima era praticamente una sorta di vergine giurata albanese, perché lei si è giurata vergine e ha regnato come regina vergine per tutta la sua vita, poiché lo fosse o meno un altro discorso e noi non lo sappiamo e non è dato ufficializzarlo. Però comunque lei in qualche modo ha cristallizzato se stessa per poter assumere quelli che sono i tratti della leadership maschile, il comando, la fermezza, la mancanza di emotività. Non poteva permettersi di essere una donna come tutte le altre donne, perché doveva essere per forza in qualche modo una leader ferma. Non le avrebbero dato credito se fosse stata una donna media, non voglio dire media, però una donna con le sue cose, vita, magari le gravidanze, non c'era la contraccezione. Quindi, storicamente, c'abbiamo un'albanese fra di noi che ha capito di cosa parlavo, secondo me. Questa cosa delle vergine giurate è bellissima, andate a cercarvela, perché comunque ti spiega tantissimo come funziona la cultura patriarcale, che in alcune zone rurali ancora adesso, ancora adesso, in alcune zone rurali dell'Albania, le donne possono vivere da uomini, però devono rinunciare completamente alla femminilità, cioè devono vestirsi da uomini e comportarsi come se fossero uomini, in tutto e per tutto. Cioè, assurdo, affascinantissimo, però ti dice moltissimo come, appunto, per essere considerate alla paia degli uomini, tu devi essere in qualche modo un uomo. Quindi noi attribuiamo qualità positive alla leadership in senso maschile. La leadership femminile è di tipo diverso, perché tende ad essere circolare. Siccome noi storicamente non ci siamo spartite il potere, ma soltanto i compiti e le cose da fare, quindi la collaborazione, le donne si muovono in cerchi, in reti, in circoli, cioè fanno squadre perché ci danno compiti da distribuire al loro interno e sono quasi sempre compiti pratici. Alleviamento dei bambini, cura della casa, cura delle bestie, cura dei campi, eccetera. Noi ancora ci rifacciamo, essenzialmente la nostra cultura nazionale è una cultura fondata sulla guerra. Non c'è posto di questa città, ma in generale delle città, dove non ci sia qualche monumento, qualche tizio su un cavallo. Oppure qualche gigantesco caffone di marmo che spunta, così a ricordarci qualche vittoria, più o meno istoriato, però insomma c'è sempre questi simboli fallici che all'improvviso spuntano. Roma è piena di questi obelissimi, questi ricordi di cose davvero importanti. Quindi quando noi ci affacciamo al mondo del lavoro, tornando a noi, in qualche modo per essere ritenute all'alto del corpo dobbiamo incorporare ed esibire in qualche modo una forma di riduzione di maschile. Dobbiamo asserire la gestione dei maschi. Per lo più ci riusciamo. Però questo ovviamente non porta un cambiamento, perché semplicemente esclude tutta una parte culturale che viene disprezzata, che non viene valutata e che in realtà è fondamentale per riuscire a costruire una società che funzioni. Quindi tutta la parte che ha a che vedere con l'empatia, con la condivisione, con la distribuzione e la creazione di nuove leadership, la capacità di delegare, la capacità di allevare e creare nuovi leader e nuove persone capaci di prendere in mano delle situazioni anche in maniera autonoma. Tutto quello che ha a che vedere con il lavoro di cura e di allevamento, che viene ingiustamente disprezzato, mal pagato o non pagato per niente, non viene incorporato nel nostro modo di vedere anche la politica, la società e il lavoro. Tutto è improntato al produci-consuma-crepa del capitalismo, per cui noi dobbiamo tendere tutti quanti verso una forma di successo, specialmente individuale, se non ti viene riconosciuto a livello personale, tu non esisti. Mentre la storia è piena di casi, di squadre che hanno vinto, senza che emergesse un chiaro leader. Le grandi lotte sindacali, le lotte del femminismo che hanno avuto delle leader, ma soprattutto hanno avuto dei numeri. Ci ritroviamo. Ovviamente anche nella leadership maschile, gli uomini fanno squadra, peccato che lo facciano solo tra di loro. Fanno squadraccia, che è diverso. Perché lo stiamo vedendo in questi giorni, nei giorni della pandemia, c'è una grande complicità tra le persone che hanno gestito, specialmente quando hanno gestito molto male l'epidemia. Nel momento in cui si cominciano a dover distribuire le responsabilità, cominciano a volare i coltelli. Questo è un grande classico. Cioè, l'unico modo affidabile in cui gli uomini fanno squadra è quello in cui escludono le donne. Ma non sempre in maniera conscia. Cioè, non sempre dicendo adesso lasciamo fuori le donne, ma semplicemente per una questione di automatismo mentale. Cosa è successo durante, io torno sempre a questa cosa della pandemia, perché secondo me ha fatto venire fuori, è proprio quello che Maffa e De Baggi lo chiamerebbe Illuminol. Cioè, quando tu parti da luce blu che fa venire fuori le macchie di sangue. Stessa cosa è successa durante i primi giorni dell'epidemia di Covid-19. Siamo entrati in modalità emergenza, quindi è stata convocata una task force per lavorare sulla ricostruzione del paese post pandemia, tutti maschi. O comunque pochissime donne. Se si andava poi a vedere qual era bene la composizione, la maggior parte delle donne era concentrata dentro una singola task force che si chiama Donne per un nuovo rinascimento, guidata dalla ministra Bonetti. Io non ho ancora avuto il tempo di leggere il documento. Non so nemmeno se lo voglio leggere, perché ho paura di far crollare la balausa di San Giovanni, che in linea d'aria non è molto lontana da casa mia a forza di porconi, però magari anche no, magari mi sbaglio. Però il senso è, mettiamo le donne in un recinto, che si occupino solo di se stesse, che si occupino solo delle cose delle donne, teniamole separate dal resto. La cosa sensata, se tu vuoi veramente includere la questione femminile nel discorso, è spalmi le donne. A seconda delle competenze, le metti nelle varie task force, in modo che portino quell'esperienza, quella visione, quell'angolatura all'interno delle varie task force. Invece no, recintate in modo da tenerle separate dall'azione degli altri gruppi. Cioè, è assurda questa storia, è assurdo. Perché significa che ancora una volta, a parte il fatto che mi fa un po' ridere, che ci si trovi, si debba mettere insieme una task force per fare in maniera, adesso non so quanto amatoriale, ma sicuramente non nuova, il lavoro che è già stato fatto dalle reti femministe negli ultimi 40 anni, e sicuramente in maniera intensiva negli ultimi 4 o 5. Cioè, chiama le ragazze di nulla e di meno, davvero. Chiama i collettivi femministi, te lo fanno meglio. Te lo fanno meglio, perché l'hanno già fatto, è già pronto. Non serviva fare una task force di 12 signore borghesi che ti spiegano come vivere. Tra l'altro, apro e chiudo parentesi, un'altra cosa che ho notato ultimamente, è che si sono levate molte voci per dire la situazione di misoginia in Italia è peggiorata, la situazione del sessismo in Italia è peggiorata, si sta andando indietro. Io all'inizio mi domandavo perché, perché a me sembra sempre uguale. E poi mi sono resa conto che in realtà il problema è che il maschilismo e la disparità è arrivata a insidiare le signore ricche, che fino a quel punto non avevano particolarmente sofferto per la disparità, per le disparità di genere. Perché essendo sostanzialmente delle privilegiate che sono potute andare a scuola, che hanno accesso alle carriere, che in qualche modo hanno una posizione sociale di rilievo, non si erano accorte che sotto quel livello lì non andava così bene, non era così facile. Adesso che la disparità tocca anche loro, perché sono rimaste bloccate a casa con i figli, da quando hanno chiuso le scuole, allora improvvisamente, e senza le domestiche, improvvisamente si accolgono che esiste il sessismo. Vabbè, meglio tardi che mai. Però è un po' la solita storia, i problemi diventano problemi solo quando sono problemi tuoi. È un po' la stessa cosa che succede con il razzismo. Nessuno è disposto a dire che l'Italia è un paese affetto da un razzismo profondo e pesante, perché è un paese che si raffigura essenzialmente come bianco e cattolico, e quindi mal sopporta l'idea della varietà. Di questa cosa non si può parlare, non si parla a viso aperto, è un discorso difficilissimo da affrontare, perché ogni volta che una persona afrodiscendente dice, cioè, a un momento di stizza, dice, madonna i bianchi, non ne posso più, che è una cosa perfettamente legittima da dire, visto come si comportano i bianchi, arriva sempre uno che dice, Emma, io no. Io voglio essere assolto da questa cosa. Tale quale è la questione del sessismo. Preciso e identico. E in realtà il problema è che quando qualcuno ti presenta un problema che tu non hai, la cosa sensata da fare sarebbe stare zitto e vedere che cosa ha da dire. E vale con tutte le marginalità o le difficoltà o le... Tutto quello che è la deviazione dallo standard che è maschio, bianco, etero, borghese, cis, essenzialmente, che è un paradigma, come l'Ave Maria. Ne togli anche solo uno, non funziona più niente. Tra l'altro mi viene in mente appunto che sto lavorando con questo progetto con i miei studenti e a un certo punto loro hanno fatto un progetto di design e mentre me lo presentavano gli ho detto voi avete pensato a come risolvere il problema delle persone con disabilità motorie o con disabilità visive all'interno del vostro progetto? Silenzio. Non ci avevano pensato. Non ci avevano pensato. Cioè, sono cinque ragazzi giovani e non ci avevano pensato. Cioè, non gli era passato per l'anticamera del cervello che quella cosa lì fosse una cosa necessaria nel momento in cui tu fai un design adesso. Cioè, devi tenere conto delle diverse abilità. e quindi così essenzialmente. Vabbè. Passiamo un pochettino a parlare di leadership ma parliamo anche della difficoltà delle persone, delle donne nel salire, nella scala, nel proporsi. Allora, io sto leggendo in questi giorni un libro di cui dovrò scrivere la prefazione per cui non vi spoilerò il titolo però parla. Parla del rapporto fra le donne e l'informatica. Quindi, la storia delle donne all'interno dell'informatica proprio partendo da Loveless Byron fino ai giorni nostri. e la costante di queste storie sono sempre che le donne cominciano a fare qualcosa appena questa cosa diventa in qualche modo prestigiosa vengono buttate fuori da quella cosa. Quindi, no, non ve lo posso dire Giulia perché deve ancora uscire quindi quando esce poi se mi seguite su Instagram gli farò un po' di pubblicità perché secondo me è un librone cioè ti spiega molto bene come funziona la società maschile. Allora, funziona così una donna si inventa una cosa o comincia a farla perché è un lavoro mal pagato e faticoso quindi le famose ragazze i calcolatori prima di essere dei calcolatori delle macchie erano eserciti di ragazze letteralmente tanto più che addirittura il erano addirittura un'unità di misura a un certo punto c'erano le kilo girls quindi mille ragazze per fare un tot di cosa e un pezzo di lavoro erano letteralmente delle ragazze che facevano i conti calcolavano era un lavoro pagato malissimo che veniva fatto prevalentemente da donne perché si riteneva che fosse un lavoro di poco conto che potevano fare tranquillamente le donne quindi per anni le donne hanno lavorato all'interno dell'industria informatica essendo parte vitale della sua costruzione hanno lavorato alla costruzione dei primissimi computer li hanno proprio inventati di sana pianta o programmati in maniera radicale i loro nomi sono quasi stati tutti quasi tutti stati dimenticati perché appena diventavano un po' influenti venivano sbattute fuori dalla società maschile che si appropriava dei loro meriti e andava avanti senza di loro poi un'altra arrivava si inventava qualcosa si insinuava un po' si faceva un po' spazio appena cominciavano il lavoro cominciava ad essere prestigioso le donne venivano fatte fuori regolarmente e questo continua ancora adesso l'industria tech è a maggioranza maschile visto come funziona abbiamo ragione di pensare che ci sia un modo appunto di fare squadraccia cioè di ricadere in maniera automatica sugli altri maschi un po' per solidarietà e un po' perché il pregiudizio di genere ci porta a pensare che gli uomini siano più autorevoli più bravi a fare le cose più competenti c'è un studio che avevo trovato quando stavo scrivendo un manuale che insomma era abbastanza ghiacciante diceva che i bambini cominciano dai 5 anni a pensare che gli uomini siano più competenti delle donne in generale sì Maurizio ho detto di contare il film che hanno fatto però non è il film il libro su cui sto lavorando io sì esatto è Rosalind Franklin come dice Agostino quella che ha scoperto il DNA e poi le hanno scippato la scoperta e se ne sono appropriati Watson e Crick che l'hanno fatta passare per loro si sono presi anche il Nobel bravi bravi e questa cosa qua si ripete molto spesso nella storia delle scienze per cui il problema non è che noi non ci proponiamo non ci facciamo avanti o non no e che ci vanno fuori cioè il problema è quello è veramente quello è uscito un articolo sul Wall Street Journal l'anno scorso che calcolava che le donne e uomini entrano nelle aziende in tutte le aziende in quantità pari quindi o con disparità minime a un certo punto a livello a livello junior c'è più o meno parità sali di livello appena cominci a iniziare le prime promozioni spariscono le donne e man mano che sali nella scala le donne ce ne sono sempre meno quindi arrivi in cima e non ce ne sono più non è che le donne non ci siano non sappiano lavorare non siano capaci semplicemente vengono sistematicamente ostacolate man mano che vanno avanti e l'ingresso e il mantenimento delle loro carriere è condizionato a una serie di cose il fatto di avere o meno dei figli il fatto di incontrare o meno sulla loro strada un capo che riconosca le loro capacità individuali senza minimizzarle senza metterle nella condizione di essere sempre la ragazza che fa il caffè tutte queste cose qui è chiaro che poi quando si arriva in cima alla piramide dove c'è più prestigio non ci sono le donne noi continuiamo a pensare al potere continuiamo a pensare al mondo del lavoro della politica insomma tutto l'ambito pubblico come in termini di spartizione del potere e il potere sarà sempre una quantità finita se io ne ho un po' qualcun altro ne ha meno perché non è infinito il potere diverso è la questione della dell'autonomia di quella che in inglese si chiama agency cioè la capacità di agire autonomamente ma all'interno di un ambiente collaborativo per cui lì non si tratta di potere ma di far funzionare un organismo una macchina una pratica una battaglia una cosa che si sta facendo negli ultimi 3-4 anni insomma le manifestazioni di non una di meno hanno sempre portato in piazza dalle 250.000 diciamo ogni anno fra 25 novembre e 8 marzo parliamo di un numero che oscilla fra le 350.000 e 500.000 persone i Pride sono super partecipati e non ce n'è uno solo ce ne sono in tutta Italia per cui comunque tutta l'Italia si muove per andare al Pride però i titoli li fa Salvini per qualche decina di migliaia di persone una volta sola in piazza San Giovanni non so se mi spiego cioè noi abbiamo la necessità in qualche modo la narrazione necessita di un leader di una faccia le sardine quando hanno cominciato ad andare in piazza erano le sardine cioè un gruppo di ragazzi che dice vediamo se riusciamo a far stare in piazza maggiore a Bologna più gente di quella che ci sta a Paladozza cioè l'idea era semplice a Paladozza ci stanno 5.500 persone se riusciamo ad andare sopra le 6.000 persone a piazza maggiore abbiamo fatto più gente di Salvini apriti cielo in piazza maggiore per tutto allora ovviamente questa cosa qua si è visto subito che non sapevano come gestirla perché non se l'aspettavano e non avevano fatto il percorso pregresso di elaborazione del pensiero cioè andiamo in piazza con un'idea un obiettivo un'organizzazione a portare una cosa no volevano soltanto stare molto stretti dentro piazza maggiore non era una grande idea politica nel momento in cui hanno deciso che Mattia Santori si sarebbe caricato il compito di andare a fare il rappresentante delle sardine nelle varie trasmissioni allora per 5 minuti lo trovavamo dappertutto e si parlava solo delle sardine perché avevano una faccia riconoscibile non una di meno non ha una faccia riconoscibile ci sono tante attiviste perché la leadership è reticolare quindi chiaramente coinvolge tantissime persone la leadership è reticolare ogni cellula di non una di meno fa parte di un organismo gigantesco nazionale ogni cellula ha le sue leader ne ha più di una tra l'altro non ne ha una poi è chiaro si scazza ci sono le divisioni ci sono le l'eliti bisogna discutere di tutto sono organismi che a volte sono pure pachidermici perché appunto non c'è Matteo Renzi che arriva e faccio tutto io però questo di solito assicura la solidità del gruppo perché se tu hai una leadership reticolare il gruppo continua a esistere che tu ci sia o no il partito faccio l'esempio del partito perché il partito è la cosa con cui è più facile spiegare l'analogia il partito personale che gira intorno a un personaggio appena quel personaggio cade in disgrazia non c'è più il partito si 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 e abbiamo quest'idea della leadership come incentrata sul personaggio e non sull'idea quindi nel momento in cui cade il personaggio viene a mancare l'idea alle elezioni regionali in Emilia Romagna si presenta Elislein ex parlamentare di possibile e corre con una sua lista che si chiama Emilia Romagna coraggiosa fa si organizza fa la sua squadra comincia a fare campagna elettorale provincia per provincia città per città paese per paese come la fa dovunque vada sta col quadernino si scrive le cose che la gente le dice e poi dà le risposte puntuali per ogni cosa che le è stata chiesta questo glielo ho visto fare per cui quando lei dice prendo il quadernino è perché sta veramente prendendo il quadernino non è un quadernino metaforico quindi fa questa campagna elettorale praticamente buia nel senso che i media nazionali non le danno nessun appoggio finisce la campagna elettorale si ritrova con la persona e essere la persona con più preferenze di tutta la tornata elettorale quindi diventa vicepresidente dell'Emilia Romagna non è un miracolo questo non è un miracolo questo è una persona che dice adesso abbiamo un'idea abbiamo dei valori di riferimento facciamo una squadra cominciamo a lavorare in maniera reticolare quindi ci dividiamo il lavoro ovviamente c'è una testa di serie perché altrimenti indonnavano però c'è una squadra e non era candidata in tutte le province ce l'hanno fatta ragazzi c'è un anno fa ha fatto il 4% il 4% pesa in un'elezione regionale soprattutto in un'elezione regionale che ballava su numeri abbastanza preoccupanti nel senso che dall'altra parte c'era la Lega Nord che candidava Lucia Borgonzoni la Lega Nord al massimo del suo splendore che candidava una candidata che per metà non ha fatto la campagna elettorale per metà l'ha fatta stando in piedi dietro Salvini quindi se c'è mai stata una rappresentazione plastica della lancella quella era mi sembrava il racconto della lancella che c'è presente sempre offre dietro al comandante uguale letterale ci sono tante donne che nel rifiutare sostanzialmente questo tipo di leadership reticolare vanno a essere praticamente innamorate del patriarcato ma non è mica facile non è mica facile cioè noi lo diamo per scontata sta cosa la leadership reticolare perché in qualche modo abbiamo fatto un ragionamento e abbiamo capito che funziona meglio cioè nella gestione del famoso gruppo che ha fatto quella volta che eccetera una delle cose che abbiamo sempre cercato di fare era evitare che ci fosse un capo che decideva per tutte e per tutti tutte le decisioni fondamentali sull'andamento del gruppo sulla gestione di quella volta che sono state passate per un ragionamento insieme al gruppo anche alla luce del fatto che si era deciso abbastanza presto che mi sarei accollata io il lavoro di portare in giro l'esperienza del gruppo nei media perché avevo esperienza e perché ero capace l'avevo già fatto quindi comunque conoscevi anche il contesto in cui eri erano tutti un po' più tranquilli se lo facevo io semplicemente perché sono capace di farlo perché anche parlare in un talk show parlare alla radio parlare con i giornali è una cosa che bene o male ha bisogno di quelle due o tre tecniche che deve aver imparato prima perché basta che sbagli tanto così è titolo così che ti sputtana quindi bisogna fare un po' attenzione però noi ci siamo abituati a quel tipo di leadership e abbiamo capito che funziona perché è meno ansiogena perché mette tutti nelle condizioni di intervenire nella nella creazione di una di una linea nella decisione insomma non c'è una non è oligarchica poi è chiaro ci sono persone che dicono guarda non lo so tu che cosa dovresti fare perché c'è sempre quello che quello o quella che ha le idee un po' più chiare e ti dice guarda secondo me dovremmo fare così c'è sempre anche la persona che un po' si soffre del fatto che c'è qualcuno che ha la leadership vorrebbe gli scazzi le cose le cose interne detto questo per noi è scontato che quella cosa lì si possa fare che sia un modello applicabile per quanto perfettibile il resto del mondo quella cosa lì non sa manco dove sia di casa perché non c'è mai stata una presentazione di un modello alternativo percorribile al mondo siccome tutto quello che è associato col femminile e ancora di più col femminismo tutto quello che è associato col femminile è considerato debole tutto quello che è associato col femminismo viene associato all'arroganza e all'aggressività che fa molto ridere perché in realtà è la percezione del femminismo che hanno i maschilisti cioè il fastidio che provano nell'essere messi davanti alla parzialità e alla violenza della loro visione automaticamente fa sì che tu che di fatto proponi un altro tipo di visione del mondo sia percepita come aggressiva anche se in realtà non è non è lì che stai andando io ho visto una cosa in chat aspetta c'è Beatrice che chiede come rimediare alla sistematica esclusione del discorso femminista dei suoi volti nei dibattiti televisivi e nei telegiornali attraverso i quali avrebbero una risonanza immediata incisiva come rendere mediatico e facilmente fruibile per tutti i femminismi allora io non credo che sia possibile ma non perché noi non siamo capaci perché noi siamo capacissime il problema è che nessuno vuole cioè il femminismo viene facilmente strumentalizzato allora vi racconto questo simpatico aneddoto siamo transfeministe per cui ce le possiamo raccontare queste cose mi chiama una trasmissione del pomeriggio quelle insomma quelle viste da un botto di gente che quando ci vado so benissimo che si dico femminismo mi vede mio zio di 80 anni in Calabria milioni di persone che sentono la parola femminismo mi chiamano perché c'era stato quel famoso caso delle spogliarelliste di Sheffield che si erano viste chiudere il locale da parte dopo le pressioni delle aperte chiuse virgolette femministe e erano riuscite a farselo riaprire con l'appoggio di aperte chiuse virgolette attiviste mi chiamano e mi dicono senti hai sentito di questo episodio sì sì ho detto io però secondo me hanno ragione spogliarelliste ho detto in sintesi perché insomma il tiro sotto vi pone sul sex war sul patriarcato sul capitalismo sul fatto che quelli sono i mezzi di sostentamento delle donne ho cambiato il capitalismo non ci rompete le palle insomma queste cose qua questi mi ascoltano in silenzio a toni tipo mi dicono ah vabbè no allora non ci servi perché c'è già la spogliarelliste mi spavano di trovare te come interlocutrice è il contrario non ce l'ha il femminismo che viene rappresentato mediaticamente è quasi sempre il femminismo radicale femminismo è quello del femmer il femminismo terf che è un femminismo eh per carità ognuno c'ha i femminismi che c'ha però io c'ho un problema ma con un problema personale con un femminismo che esclude le soggettività che non siano etero o che aggancia tutto il valore delle donne al loro apparato genitale cioè io non sono una donna perché ho la vagina ragazzi io sono una donna perché sono una donna perché sono nata donna in un corpo in un corpo femminile sono una donna ci spunto ma se io fossi da donna in un corpo con il pene sempre donna sarei non è che mi ha parato il genitale mi fa di me un'altra cosa sempre donna sei se vuoi essere donna perché poi le donne le trans che dicono io non sono le donne non è uomo sono trans o non sono non binary pure quella è una soggettività però non può ridurre tutto quanto maschio di qua femmina di là le donne hanno la vagina e gli uomini il pene e ciao cioè che vita è che visione del mondo è e soprattutto io non riesco più a accettare che nel 2020 stiamo ancora a dire il femminismo lo fanno le donne e gli uomini siano a cuccia cioè un'altra cosa che non ha nessun senso significa che non si va da nessuna parte però quel femminismo lì che è molto conservatore è molto funzionale nella narrazione patriarcale perché se tu non vuoi cambiare niente di fatto e ti limiti a chiedere di avere uno strapuntino all'interno sì Michela eh lo so ma non ce l'avevo con loro nello specifico perché in realtà è arci lesbica e arriva l'ultima in scivolata dopo anni e anni di questo stilicidio di persone che continuano a ripetere sempre la stessa cosa che è rimasta ormai agli anni 60 eh forse pure prima perché insomma un po' vecchia proprio anche come teoria evolutiva però eh qual è il punto eh il punto è che quando noi cerchiamo di parlare di femminismo fuori dai nostri ambienti eh ci scontriamo immediatamente con la percezione del femminismo come del femminismo radicale tanto per cominciare che non ha niente a che vedere con il femminismo intersezionale e il transfeminismo è proprio un'altra cosa e ci scontriamo col fatto che che molte delle radfemme sono comunque ben più posizionate quindi ci scontriamo anche con quello che è un femminismo percepito che molto spesso è molto distante da quelli che sono i nostri i femminismi vere e proprie le teorie che che da anni continuiamo a portare avanti eh sì perché poi tra l'altro appunto i femminismi sono tantissimi e ognuna c'ha il suo cioè poi allora ultimamente appunto abbiamo cominciato finalmente a parlare del femminismo musulmano finalmente abbiamo cominciato a parlarne non in maniera eh vabbè ma quelle lì non possono essere femministe però anche lì c'è da fare un lavoro gigantesco di ehm attribuzione di visibilità cioè di farci un po' da parte per lasciare che siano le femminismi musulmane a parlare di se stesse e che non siano come al solito le signore bianche a parlare per tutte le altre però un attimo che dico una cosa al volo ai miei studenti che mi stanno tormentando su Slack questo è il bello della diretta è anche il bello del fatto che entriamo effettivamente nelle case delle persone infatti ho detto una cosa sbagliata perché andavo dire tormentando perché in realtà loro hanno ragione stiamo nel metodo di un progetto che li ho abbandonati comunque vabbè e allora no tornando a noi come si fa a rendere il femminismo accessibile e appetibile e non lo so ci ho fatto un libro io allora no in realtà il mio metodo personale è stato seguire un po' quella che è stata la scia delle femministe americane che sono quella da cui ho imparato cioè prendere il proprio personale e darne una lettura femminista o comunque raccontare il mondo attraverso una prospettiva femminista sta usando molto io la parola io la parola la propria esperienza personale e non è facilissimo e ti espone molto quindi io l'ho fatto perché ormai erano dieci anni che lo facevo dovevo soltanto raccattare un po' tutto condensarlo metterlo in un libro schiacciato quello che sei riuscito a fare però nel tuo libro è anche stato il fatto di partendo dalla tua esperienza creare dare lo spessore e una modalità di interazione di interpretazione di quello che ci succede intorno nel nostro quotidiano in una chiave femminista perché effettivamente anche questo molti degli esempi che tu hai usato nel tuo libro sono cose che ci capitano quotidianamente io che il tuo libro l'ho fruito in più modalità perché tu una cosa che dici di fare è o leggerlo tutto d'un fiato o leggerlo per spizzicchi bocconi io credo che in realtà il tuo libro vada ripreso in mano più volte nel corso del tempo nel mio caso addirittura ascoltando l'ho letto da te che mi ha ammesso di discutere con te anche se tu non lo sapevi quella è stata una grande idea devo dire molto orgogliosa di averlo fatto perché se l'avessi fatto leggere a qualcun'altro non sarebbe stata la stessa cosa è stato molto bello perché effettivamente ci si ritrovava a darti ragione dicendo cavolo hai ragione tu è bello è bello qualche ragione sì allora la cosa che mi hanno detto più di frequente della cosa che mi fa sempre più piacere è che soprattutto le più giovani si sono sentite abbracciate era come se qualcuno andasse lì e gli facesse dai va tutto bene adesso ti siedi ti spiego tre cose dopodiché ti alzi e stai meglio quindi tipo stanno incazzate per 300 pagine arrivano in fondo e dicono però adesso sto meglio cioè è quell'incazzatura catartica che in realtà ti fa dire allora era questo allora il punto non è spiegare il femminismo perché non è secondo me non è neanche possibile perché ce ne sono talmente tanti che è impossibile spiegare il femminismo è possibile secondo me provare a interpretare la realtà da un punto di vista femminista che è una cosa completamente diversa cioè applicare uno sguardo femminista a qualunque cosa che può essere un libro un film una partita di pallone qualunque cosa può essere guardata con sguardo femminista ok è un occhio che può essere applicato a qualsiasi cosa quindi non è tanto il fatto di spiegare il femminismo quanto di guardare le cose in maniera femminista che è una cosa diversa poi ogni tanto purtroppo ci tocca ricominciare a rinventare la ruota io ho fatto il libro sperando di non doverlo fare mai più ho capito dovrò farlo ancora per un po' di tempo cercare un po' di lavoro da fare Silvia dice Silvia che mi stava dicendo una cosa eh sì tempo fa critichai una tua scelta di venire pubblicata su una nota rivista di moda e tu mi dicesti che invece bisogna proprio andare a scardinare dall'interno certe dinamiche di pensiero anche quello può essere un modo utile per rendere appetibile il femminismo e renderlo più pop ma in senso buono allora doveva essere un sacco di tempo fa perché non so neanche qual era la rivista di moda se era Marie Claire vi posso dire che lo staff di Marie Claire e la redazione di Marie Claire è sempre stata una redazione piena di femministe e femministi seri persone che hanno proprio un occhio pur lavorando con le costruzioni della rivista di moda perché alla fine la rivista di moda è una rivista di moda e quindi ha purtroppo degli standard risponde a degli standard che sono dettati non dal giornale ma dagli inserzionisti in compenso dentro ci può andare qualunque cosa io ci ho fatto pure delle cose belle poi non so se posso Marie Claire perché io ho scritto per chiunque ho lavorato due anni e mezzo con Vogue.it per dire che mi hanno lasciato fare di tutto mi lasciavano fare veramente di tutto era incredibile la libertà che avevo finché c'è stato Beniamino Marini che adesso è capo del digital di Gucci ma capo della comunicazione di Gucci però all'epoca era il mio capo a Vogue e facevamo veramente di tutto era assurdo la libertà con cui mi facevano lavorare allora sì secondo me bisogna scegliere con cura gli ambienti in cui andare a parlare perché è inutile cercare di andare a fare le evangeliste sulla pagina di Salvini per dire che sai benissimo che è inutile io ho trovato che è molto inutile andare nei talk show quelli molto spettacolarizzati cioè i talk show serali in cui c'è sempre il contraddittorio è sempre un giornalista super conservatore che dice delle cazzate in mani non vere al solo scopo di fare teatro lì non dici mai niente perché tutto funzionale lo spettacolo televisivo non è funzionale la costruzione di un discorso per cui è tempo perso quindi quelle cose lì io non le faccio l'ho fatto l'ho fatto quando c'era appunto appena uscito quella volta che ho accettato un invito da Matrix che era allora il programma di Porro non è andata benissimo non è andata benissimo non ne ho voluti fare altri perché ritenevo credo correttamente che quel tipo di interazione non fosse fruttuosa ci sono altri contesti in cui il caso invece di mettersi in gioco dipende io tendo a scegliere con cura i posti dove vado a parlare perché voglio poter finire una frase e dire delle cose sensate senza dovermi difendere costantemente essere in minoranza un posto che io ho trovato dove era possibile fare quel discorso è stato per un periodo molto lungo e adesso di nuovo la vita in diretta grazie almeno a una delle autrici Elena Martelli che è molto sensibile a questi temi è sempre stata molto brava a mettere insieme dei parterre in cui si parlava di temi anche delicatissimi in maniera semplice non in maniera avanzata o radicale o incomprensibile non c'erano toni da collettivo cose che non sarebbero state comprensibili a chiunque al di fuori dell'ambiente femminista cioè quindi tutto chiarissimo però comunque si dicevano anche delle cose abbastanza avanti anche abbastanza complesse quindi quello era un posto dove mi faceva piacere andare quando mi invita non ci vado tuttora perché comunque avevo la sensazione di riuscire a finire una frase a volte va bene a volte va male però comunque in ogni caso riesce a fissare dei concetti fissare dei concetti è meglio che possiamo fare in questo momento di parola no un po' un problema con il il femminismo di facciata c'è il femminismo alle grotto quello della maglietta con scritto se dovremmo essere tutti i femministi di or che costa otto piotte ecco quello magari no quello mi piace meno non mi piacciono moltissimo le narrazioni incentrate sull'eccezionalità per cui tu parli delle donne soltanto quando emergono come se fossero dei modelli dei fari delle cose da imitare se ce l'ha fatta lei ce la fai anche tu allora sono tipo metà sono ricche l'altra metà non li vedi i momenti in cui gli hanno tirato le pietre i pomodori li hanno insultate marginalizzate trattate male tutto viene schiacciato dalla prospettiva del successo per cui lei è emersa quindi ce la puoi fare anche tu se tu non ce la fai è perché non ti impegni abbastanza non ti fanno vedere tutti i momenti in cui queste si sono presi i pomodori e hanno dovuto tenere duro è sempre la questione della colpevolizzazione delle donne è colpa tua in generale nella società capitalista chi non ce la fa è colpa sua perché non ci ha creduto abbastanza non ha lavorato abbastanza non si è impegnato abbastanza quindi il fallimento non è contemplato come cioè si gestisce sempre la vita come un percorso lineare in cui tu devi tendere un obiettivo se tu fallisci con l'obiettivo non vale niente quindi anche in politica spesso si tende a parlare delle persone che non sono riuscite a tenere un obiettivo con un partito per un qualsiasi motivo come dei falliti quando in realtà a parte che la politica risponde a delle logiche un po' più complesse di non fai la percentuale che dovresti fare non fai il quorum basta sei infallito non funziona così le idee possono essere anche molto buone ma il partito è non avere una base sufficiente oppure tu puoi avere delle idee buone ma ti candidano in tutti perdonatemi il francesismo in tutti i buchi di culo del mondo per cui non prende abbastanza voti per arrivare in Parlamento cioè sono tanti i motivi per cui un partito può fallire chiaro poi c'è anche il fatto che puoi essere anche una persona singolarmente priva di idee che sta lì perché è stata cooptata di volta in volta da diversi politici un po' più potenti però quello è un altro discorso però le variabili sono tante però noi tendiamo a parlare del politico che va male in termini di ah sei finito fallito perché abbiamo questa percezione del percorso di vita delle persone come legato al successo in qualche modo questo tra l'altro ha alimentato una corrente di rancore di insoddisfazione di desiderio di rivalza da parte delle persone che poi abbiamo visto concretizzarsi in politica perché i populismi di fatto danno voce non come erroneamente si pensa alle classi povere il populismo dà voce alle classi insoddisfatte cioè alla classe al rancore sociale perché moltissime delle persone che votano per i partiti populisti o sono pensionati che hanno già la pensione o sono persone che lavorano che lavorano in uffici che hanno impieghi normalissimi magari spesso hanno la seconda casa una casa vacanza diciamo fanno delle vite normalissime delle vite non di privazione eppure ritengono che gli sia stato sottratto qualcosa e questo qualcosa è la possibilità di contare di avere una voce di essere riconosciuti come soggetti per cui quando vincono i populisti non sono felici fanno partire i repulisti perché sono ancora più incazzati cioè si devono vendicare contro quelli che fino a quel punto dal loro punto di vista li hanno oppressi guarda caso uno dei bersagli preferiti del populista è parte le donne sono gli intellettuali l'intellettuale non guadagna non è ricco quindi non è una questione non è assolutamente una questione monetaria è una questione economica io sono abbastanza sicura di essere molto più povera dell'impiegato del catasto medio che ha lo stipendio fisso da tredicesima alla quattordicesima le ferie pagate e si fa i suoi bravi 15 giorni di vacanza alla dispoli ogni anno ok il problema è proprio quello il problema è che l'impiegato del catasto per avere quindi tredicesima quattordicesima le ferie pagate e i quasi 15 giorni alla dispoli ha dovuto rinunciare alla vita dell'anima Simona chiede già i social network hanno aiutato ad avvicinare il femminismo e moltissime persone prima dice lei prima l'unica immagine invisibile ai più sul femminismo erano le poste riot rosse sì o le femmine che sono sempre state un po' atipiche perché in realtà non siamo mai riusciti ad avere accesso a una vera costruzione del pensiero delle femmine erano più erano e sono tuttora più una una forma di 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 guerriglia urbana performance art non si capisce però alla fine non è che c'erano fossero enorme costruzioni del pensiero dietro le femmine o almeno a noi non è arrivata non c'è stata veicolata in compenso tette al vento quindi va bene così anche le tette sono belle sì sui social network devo dire una cosa io mi sono spostata da un po' di tempo su instagram da quando è uscito il libro più o meno perché su instagram c'era un po' c'erano un po' più le persone ho capito subito che c'erano le persone che il mio libro stava cercando e viceversa e e lì ho trovato l'incredibile perché c'è una quantità di profili di persone che si occupano di questo tema di persone che hanno domande da fare che sono curiose che sono attive che hanno voglia di scoprire i fondamentali del del femminismo e quindi sì effettivamente i social che ci sto scrivendo una cosa in questi giorni una roba che non uscirà adesso però sono arrivata proprio a affrontare la differenza fra gli immigrati i cosiddetti immigrati digitali la definizione non è mia di Davide Dalmaso con cui ho fatto TEDx Vicenza l'anno scorso e i nativi digitali l'immigrato digitale si ricorda com'era la vita prima cioè è nato con i telefoni a disco con lettere di carta e il tutto città e adesso si ritrova con Siri che le urli chiama coso e lei dice ecco cosa ho trovato su internet su coso volante no Siri chiama coso nella tua rubrica ci sono sette persone che si chiamano coso quale vuoi chiamare io coso coso questo mi succede regolarmente scusate l'anedito personale mi succede regolarmente il mio fidanzato si chiama Emiliano e questa è tutta la mia rubrica quindi non hai capito perché Siri non capisca mai quello che le dico tornando a noi insomma è cambiato tutto però noi ci ricordiamo come era prima l'immigrato digitale percepisce la rete come uno spazio separato dalla vita per cui ci sono la rete è un posto dove fai delle cose dopodiché c'è la vita che è un'altra cosa non c'è una vera intersezione o un dialogo continuo fra la vita quotidiana e la rete che invece è normale per i nativi digitali perché sono nati già con quella funzione incorporata hanno altri problemi però per loro l'utilizzo della rete per veicolare messaggi anche politici quando ce li hanno perché sono purtroppo una degenerazione per colpa nostra perché sono i nostri figli molto dissociati dalla politica sempre meno perché adesso cominciano a emergere con il fatto di Fridays for Future un sacco di ragazzi sono tornati alla politica o si sono avvicinati alla politica in questo momento però per loro è molto organico l'utilizzo dei social per veicolare messaggi politici fare campagne o far girare contenuti è una cosa che ho capito che per la mia generazione e quelle precedenti è un po' più difficile per esempio a volte vogliono fare delle campagne così a buffo senza che ci sia una senza che siano legate a un tema specifico per cui la campagna non funziona perché una campagna funziona se è legata a un momento a una cosa che è successa a una notizia a una sensazione allora funziona se tu vuoi una campagna così a buffo un hashtag alle ore tweet tweetiamo tutti con no no perché perché no perché mi devi dare un motivo è una i social sono una conversazione non sono posti dove rovesciare dei contenuti cioè ricorda un po' le mani quando si andava in manifestazione alle superiori andiamo e manifestiamo quello andiamo a manifestare ok magari non lo sapevi però non lo sapevi perché almeno eri in manifestazione non stavi sul divano di casa e ti trovavi qualcuno che ti diceva alle ore X twitta questo hashtag e lui dice perché cosa c'entra che fare tra l'altro nel mezzo cioè oggi mi è arrivata una roba una call to action su un hashtag sulla violenza di genere tra l'altro nel mezzo cioè la conversazione in questo momento è tutta sulla su Black Lives Matter la morte di George Floyd e quello che sta succedendo in America cioè un'altra cosa ragazzi dai sappiamo anche cogliere lo zeitgeist e questo per vedo che per i nativi digitali è più semplice per cui le ragazze hanno dei momenti di grossa frustrazione perché spesso pensano di doversi porre in maniera pedagogica quindi di dover costantemente spiegare le cose a gente che non ha voglia di ascoltarle e ogni tanto gli dico sì ma canna cioè se non ti stanno a sentire molla lì fatti valere per le cose tue ma tu non è che sei tenuta a fare i dispiegoni a tutti sostanzialmente non sei tenuta a soffrire per questo esatto non sei tenuta a immolarti per la causa soltanto perché pensi di dover essere una brava femminista guarda sei una brava femminista anche se accanni sei una brava femminista anche se decidi di rispondere a una una conversazione surreale maschilistissima soltanto con delle gif cioè perché poi alla fine il tuo femminismo si concretizza in altri modi non è evangelizzare lo scemo è sostenere le altre donne sostenere gli uomini che sono afflitti dal sessismo e che stanno magari soffrendo perché in quello specifico sono colpiti da una forma di sessismo quello sì sei femminista anche se ti fa la ceretta sì perché no era ironica no l'altro giorno c'era tutto sto che fafo il tremendo su Emi Schilla che aveva detto che le donne dovevano essere depilate e non dire le parolacce esatto io sono sempre la bambina avete presente la bambina con i denti un po' sporgenti che sta nella gif così fa sempre così perché il succo è non ho capito quando ti ho chiesto la tua opinione però è anche questa è una cosa difficile da far passare cioè l'idea che comunque il corpo è tuo e ci fai quello che vuoi e se ti vuoi rifare le tette ti fai le tette perché le tette sono le tue se ti vuoi modificare il corpo in qualche modo quello è il tuo corpo ci fai quello che vuoi nessuno ti deve dire cosa puoi o non puoi fare col tuo corpo domandati solo se lo faresti lo stesso se non ci fossero in giro 8000 Kylie Jenner che ti fanno sentire brutta Maurizio chiede se puoi riprendere il discorso di come può funzionare una leadership non patriarcale come l'antico matriarcato oppure con dinamiche più moderne allora quando parliamo di matriarcato spesso abbiamo un po' un'idea casa di carta del matriarcato cioè un rovesciamento per cui le donne stanno in cima gli uomini stanno sotto e le donne comandano è la stessa cosa se chiunque abbia letto ragazze elettriche che è un libro un romanzo stupendo ma che io altamente credo fortemente perché fa una dipinge uno scenario molto verosimile cioè cosa succede se le donne hanno improvvisamente la possibilità di sopraffare gli uomini con la violenza fisica non con la forza perché non ce l'hanno ma perché all'improvviso sviluppano una forma di trasmissione dell'elettricità al contatto quindi nascono con questa forza ti toccano e tu sei fulminato basta quindi diventano effettivamente le nuove imperatrici del mondo perché appena un uomo si avvicina lo fulminano e ciao è fatta quindi alla forza fisica dei maschi con cui i maschi hanno sottomesso le femmine storicamente viene sostituita questa capacità di mettere la mano di imporre le mani pzzzz reggerti sul posto lo scenario che viene dipinto da Naomi Alderman in questo libro che è stupendo stupendo costruito benissimo una scatola cinese di narrazione meravigliosa è che è la stessa cosa c'è lo stesso tipo di violenza solo rovesciata non cambia assolutamente niente se tu rovesci il patercato ci metti il matercato con le stesse dinamiche è la stessa cosa l'unico modo in cui può funzionare la cosa della readership particolare è abbandonando l'idea che il successo individuale sia più importante del successo della squadra perché se noi mettiamo sempre la narrazione l'appoggiamo sempre sull'individuo tutti vorranno in qualche modo essere ricordati nei libri di storia invece noi usciamo da questa narrazione cominciamo a considerare l'ipotesi che sia più importante il movimento la collettività il risultato collettivo piuttosto che i meriti singoli dell'individuo cambia tutto tutto perché cambia completamente la prospettiva e storicamente i grandi progressi non si sono fatti perché un individuo si è immolato non c'era la singola femminista o il singolo sindacalista che vinceva una battaglia le battaglie si vincevano collettivamente si vincevano con gli scioperi con le manifestazioni con la stensione del lavoro con le rimedicazioni con la costruzione del pensiero le riunioni e avanti così cioè il lavoro collettivo è sempre quello che ha portato il progresso i singoli possono fare le accende dimostrative fare degli strappi avere delle idee ma se non hanno dietro una collettività è impossibile è impossibile non ce la possono fare aspetta che ne avevo visto un'altra Fabiana ti chiede i consigli di lettura per approfondire riguardo alla leadership reticolare allora sai che non lo so perché è una di quelle cose che io ho assorbito in maniera l'ho assorbito negli anni un po' osservando come funzionavano i collettivi io non sono io non vengo dai collettivi ho avuto un'altra formazione mi sono formata come femminista da sola come tante del resto da ragazzina di provincia che non aveva accesso a quel tipo di esperienza e poi alla fine mi sono fatta non è che mi sono fatta un collettivo però insomma ho fatto un micro gruppo di discussione con cui faccio delle cose organizzo delle cose eccetera quindi alla fine il mio collettivo non lo so fatto pure io non abbiamo una sede non ci troviamo faccia a faccia molto spesso però comunque pur essendo sparse sparsi perché abbiamo anche una discreta percentuale di ragazzi di giovani uomini dovrei dire anche meno giovani ancora già la mia età però alla fine funzionava funzionava un po' come un collettivo però per me è stata una cosa istintiva nel senso arrivare a quel tipo di gestione della leadership è stata una cosa istintiva non per insicurezza ma perché ho intuito che nel momento in cui mi mettevo in qualche modo alla guida di una cosa anche una cosa piccola così l'unico modo che avevo di farla funzionare è fare in modo che tutti partecipassero nella maniera più aperta possibile se io mi mettevo a fare a lavorare di vertice mi sarei persa le persone per strada perché ovviamente ci sarebbero stati dei punti in cui non saremmo state d'accordo in più ho sempre io personalmente ho trovato sicurezza nei numeri quindi sapevo che se le mie decisioni non erano mie decisioni ma erano frutto di un lavoro collettivo in cui magari io potevo mettere la mia esperienza o mettere una cosa che mi sembrava sensata e portarla al vaglio del resto del gruppo poi mi sentivo più sicura andare avanti perché dietro di me comunque intorno a me non dietro ma intorno a me c'erano delle persone che mi dicevano ok vai 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 perché mi appoggiavano la decisione non perché l'avessi presa io ma perché era stata presa collettivamente quindi era l'espressione in qualche modo di un lavoro non di maggioranza ma di ragionamento che è diverso cioè si arriva a prendere decisioni ragionandoci poi è chiaro ognuno porta la sua esperienza porta la sua le sue capacità e c'è chi è chi magari ha una prospettiva un pochino più avanzata e chi ti sta più indietro chi ti tira chi ti va però in qualche modo si va avanti meglio è più solida banalmente la leadership particolare è più solida perché il leader non è solo non e si presta meno ai giochi di palazzo cioè si presta meno alla corrente di quello che vuole soffiarti la poltrona eccetera perché il leader nel momento in cui devi rispondere ad altre persone perché stai portando un'opinione condivisa diventa anche più difficile esatto ma fare quella cosa il leader il leader il leader intelligente che cosa fa in teoria ne crea altri cioè fai in modo che le persone intorno abbiano una forma di leadership abbiano una la capacità di essere anche autonome di portare avanti dei progetti all'interno del gruppo o al di fuori del gruppo si fa da parte e dici ok questa cosa magari la gestisci tu quindi non bisogna lasciare andare un po' l'ansia da controllo e poi secondo me questa è una cosa proprio tanto tanto delle donne non bisogna avere paura di sbagliare che è una cosa fisiologica cioè ognuno di noi ovviamente ha dei momenti di dubbio dice farò bene farò male però le donne si cagano sotto perché ci hanno insegnato dobbiamo essere sempre perfette e non possiamo mai fare le cose male non possiamo mai sbagliare perché nel momento in cui sbagliamo ci fanno fuori subito perché è come se avesse fallito un intero genere il fallimento degli uomini è sempre individuale il fallimento delle donne è sempre collettivo questa è una grande verità questo è un grande passaggio è una grande verità di cui ti ringrazio molto pensate ogni volta che c'è una nuova carica allora una donna al posto di Mattarella una donna a chi? una donna a chi? cioè non è che tutte le donne sono uguali cioè fra me e Giorgio Ameloni ci sono vari abissi stanno diventando la fossa delle Marianne fra me e Giorgio Ameloni scusate eppure siamo tecnicamente due donne allora no una donna non è che io e Giorgio Ameloni e Mara Carfagna e che cazzo ne so e Ima Battaglia siamo la stessa persona cioè siamo quattro donne molto diverse in qualche caso radicalmente diverse però insomma quattro donne quattro persone completamente diverse allora non puoi dire una donna una donna ha un nome un cognome delle caratteristiche il problema è che non abbiamo quasi mai un nome e cognome delle caratteristiche cioè prima di essere degli individui siamo rappresentanti di una specie di sorta di blocco in forme che ci dovrebbe rappresentare tutte e questa cosa qua è pericolosissima perché nel momento in cui si affaccia una donna sempre in politica ah che bello una donna una donna chi? ed è quasi sempre una donna totalmente o cooptata da un potere patriarcale preesistente o completamente allineata con quel potere cioè sono pochissime in Parlamento le femministe disponibili a autodefinersi e non hanno e hanno pochissimo potere hanno pochissimo potere cioè io credo che chiunque qui dentro stia ancora chiunque qui dentro stia ancora bruciando il fatto che le pari opportunità non siano andate a Monica Cirinna che se le era un po' sudate un po' poco poco eh Francesca chiede da quando ho iniziato a lavorare non ho mai trovato una leadership reticolare qualcuno pronto a formarmi a lasciarmi responsabilità per farmi crescere ma anzi sono sempre stata sfruttata e lasciata a casa quando non c'era più bisogno di qualcuno che mettesse le pezze eh adesso mi chiedo non è che sbaglio io qualcosa secondo te Giulia c'è qualcosa da cambiare anche nell'approccio delle giovani al mondo del lavoro? Allora io sono eh personalmente sono sempre stata il tipo di persona che quando ha delle junior cerca di formarle perché prima o poi io me ne vado e qualcuno mi deve subentrare e deve essere bravo e poi c'è non so c'è sempre questa cosa ho avuto questa cosa un po' pedagogica mi piace mi piace formare le persone infatti faccio l'insegnante faccio la docente universitaria guarda caso mi piace proprio e allora è difficilissimo perché in questo momento il mondo del lavoro è fortemente patriarcale l'unica cosa che può funzionare al di là di tutto è che le donne si facciano le loro aziende e che comincino a gestirle con i loro metodi se vogliamo contare dobbiamo fare squadra fra di noi ma non squadra della serie non la squadraccia dobbiamo cominciare a essere molto proattive nel cercare una la collaborazione dell'altra perché tanto comunque la fuori qualcun altro che ci taglia fuori lo troviamo sempre allora io se devo lavorare con qualcuno tendo a privilegiare le donne non perché non mi piaccia come lavorano gli uomini o non mi piaccia lavorare con gli uomini perché non è questo ma semplicemente perché la fuori le donne sono sistematicamente marginalizzate quindi se non qualcuno ci deve pensare però nel momento in cui tu fai un'azienda e ti inserisci in qualche modo in un sistema capitalista devi capire qual è la tua modalità per fare in modo che l'azienda funzioni senza creando lavoro creando occupazione ma prendendosi anche cura dei lavoratori la storia di Ivanka Trump che si vanta tanto di essere femminista ma femminista di che che le sue lavoratrici non hanno manco la maternità cioè capite questo è il punto se tu fai un'azienda sei una donna e sei una femminista non sei una donna ma se sei una femminista e fai un'azienda devi trovare il modo in qualche modo di fare sì che la tua azienda tenga conto dei ritmi delle donne delle necessità delle donne che non sono necessariamente i lavori di cura ma anche molto banalmente oh quando c'è mal di panza c'hai le vestruazioni e sei sdraiata sul divano e non te mai muove che problema c'è a lavorare da casa in quel giorno lì perché non stai bene oppure non ci sono i congedi di paternità ci servirebbero i congedi di paternità allora tu imprenditrice quanto sei disponibile a attrezzare un asilo all'interno dell'azienda dare orari flessibili insomma in qualche modo costruire una cultura aziendale collettiva ma poi soprattutto tu come imprenditrice quanto lavori di squadra all'interno dell'azienda pur sapendo che hai sulle spalle il rischio di impresa poi io non sono un economista per cui mi fermo davanti a queste cose qua perché secondo me per dire delle cose di economia bisogna studiare però di solito nelle aziende in cui c'è un clima di collaborazione un clima elastico in cui le persone lavorano magari tanto però non hanno la sensazione di essere sfruttate perché hanno un obiettivo personale e collettivo e poi c'è una distribuzione di meriti e c'è un piacere del lavoro e sei adeguatamente compensato e hai la possibilità di lavorare da casa e hai la possibilità di fare le ferie e non devi crepare in ufficio cioè un'altra vita cioè sperimentare la settimana corta quindi lavorare un po' di meno però lavorare meglio che chiunque lavora io non riesco a stare negli uffici per esempio perché mi piace fare tante cose l'idea di stare dieci ore in ufficio poi torno a casa a lavorare ancora perché devo fare altri lavori mi ammazza quindi ho fatto altre scelte però chiunque abbia lavorato in un ufficio sa che le ore di lavoro effettivo sono tot e poi per il resto del tempo riunioni cazzate startoffie cose inutili mille telefonate con i clienti però c'è una serie di cose da definire addirittura la disconnessione poi c'è tutta la questione di cui sta parlando Mariana Mazzucato sul fatto degli investimenti dello Stato nelle imprese che poi devono essere in qualche modo restituite dalle imprese sotto forma di investimento per la collettività e stanno già tirando i pomodori perché hanno già cominciato a dire ecco lo Stato che si mette in mezzo nelle cose delle imprese oh se ti do i soldi prendi i soldi dello Stato quindi la collettività restituisci alla collettività mi sembra una cosa logica Natascia come siamo messi come tempi stiamo stiamo andando verso la chiusura io mi associo a quello che mi associo a quello che scrive Simona rispetto al bisogno di sollecitare l'editoria circa approfondimenti sul tema della leadership femminista e approfitto per dire una cosa che siccome in questo periodo complicato è tornato uno dei grandi temi dei femminismi che è la cura sarebbe molto interessante applicare alcuni principi della cura socializzata come vi piacerebbe che fosse cioè non una questione solo ad appannaggio delle donne a questo ragionamento che facevi della leadership perché secondo me interpretare la cura in chiave femminista avrebbe come dire delle ricadute interessanti anche sul modo in cui conduciamo appunto le nostre imprese io intendo anche quelle economiche e quindi può entrare nel concetto di leadership femminista secondo me in maniera molto interessante perché collegato al tema della cura c'è anche quel tema che mi è molto caro quando si parla magari tanto di team building e di capacità prestativa del gruppo eccetera eccetera che è il tema dell'interdipendenza noi credo che noi donne sappiamo che cosa vuol dire questo concetto ma lo sanno anche alcuni uomini che ci hanno lavorato su e secondo me sarebbe interessante ecco allora il problema noi dovremmo aprire un'altra domanda la questione della cura allora io vorrei dire una cosa che mi ha colpito negli ultimi tempi e che mi sembra che abbia molto a che vedere con il modo in cui noi parliamo di cura c'è una sostanziale riluttanza c'è stata una sostanziale riluttanza delle donne a inferocirsi quando siamo state di fatto lasciate a casa dalla chiusura delle scuole senza che il governo si attrezzasse in alcun modo per venirci incontro o che venissimo incluse nei processi decisionali non ho visto delle sollevazioni di piazza ho visto sollevazioni di pochi gruppi sempre di mamme però formate borghesi insomma quelle con un po' di coscienza però non ho visto una sollevazione generale delle donne allora io ho capito una cosa che alla cura è attaccato una questione di un'attribuzione di valori di merito per cui una donna che non cura è una donna o che non si presta ai lavori di cura o che non considera il lavoro di cura come prioritario nella sua vita è considerata un po' una donna a metà quindi dire io non voglio tornare a casa porca miseria trovate una soluzione perché il mio lavoro è importante tanto quanto quello di un uomo la mia presenza nel mondo è importante tanto quanto quella di un uomo sembra un voler dire io non voglio stare a casa con i miei figli sembra una dichiarazione di disamore nei confronti dei figli e questo è uno scoglio fortissimo da superare perché alla fine dentro di noi siamo talmente condizionate dall'idea che prendersi cura dei figli definisca la nostra identità anche quando che il lavoro sia una cosa di più una cosa che arriva una cosa che si aggiunge alle nostre vite ma non parte della nostra identità è difficilissimo in questi termini parlare di lavoro di cura in maniera neutra e di farlo rientrare nel nostro femminista perché poi tra l'altro c'è anche la questione delicatissima del fatto che il lavoro di cura è un lavoro però da un lato se tu decidi che quello è un lavoro che va retribuito quello è una cosa che viene proposta da anni dalla destra estrema italiana perché sperano di levarci dalle palle cioè ci danno dei soldi stiamo a casa ciao non contiamo più contiamo come il due di spade quando comanda bastoni stiamo a casa via però ci hanno dato dei soldi quindi a posto che ci pagano per stare chiusi in casa dall'altro lato se noi rifiutiamo di essere pagate per il lavoro domestico ce lo dobbiamo comunque ciucciare perché appunto tornando al discorso precedente che facciamo all'inizio questo problema non è un problema delle donne questo è un problema è un problema di sottrazione degli uomini che non sono né addestrati né disponibili a dividere equamente i compiti domestici andrebbe socializzata appunto la cura è un problema che va assolutamente anche il problema cioè la questione va socializzata va collettivizzata la discussione va collettivizzata e il problema è che quando tu cerchi di fare questo discorso arriva sempre uno chiederti la soluzione personale ma non ce l'ho con te amico a parte il fatto che per favore non veni a chiedere da vedere se stiri perché per cortesia ma cioè ogni tanto mia sorella mi chiama dalla stanza dei giochi dei bambini e regolarmente sullo sfondo c'è mio cognato che stira regolarmente ma non è una notizia questa non è una notizia che mio cognato stiri il punto è che questa cosa qua mi ha colpito perché per quanto comunque nella mia famiglia alla fine sia una cosa abbastanza normale una cosa che sono abituata a vedere cioè gli uomini con lo scopettone in mano sono una cosa normale però mi ha colpito mi ha colpito perché ancora adesso un uomo che svolge compiti di cura domestica mi colpisce cioè la distribuzione del carico del lavoro è sempre spesso è distribuita in un altro modo cioè magari lei stira e lui sta con i bimbi ecco per dire gioca con i bimbi però è difficile che ci abbia il ferro da stiro in mano lo scopettone che faccia delle cose in casa con pratiche però sono gli uomini che si devono educare a vicenda a fare questa cosa assumersi la responsabilità di prima persona e cominciare ad educarsi a vicenda perché gli uomini imparano a fare gli uomini dagli altri uomini non imparano dalle donne è un falso mito questo che le madri educano male i figli le madri sicuramente crescono in una società patriarcale ma una donna che cresce in una società patriarcale al 99% avvicina un uomo che non fa niente in casa e noi non siamo addestratrici di cani non dobbiamo addestrare i nostri compagni sono assolutamente d'accordo l'abbiamo detto un sacco di volte da qui che non deve essere una nostra io non ho capito perché ci dobbiamo sempre porre nella posizione di dover educare i figli educare i compagni e che palle cioè siamo nel 2020 ormai abbiamo stabilito che i rambori di casa non hanno genere per favore tirate su non è possibile che vi caschino i pollici opponibili appena entrate in casa però è un discorso che si fa fatica a collettivizzare perché ogni volta che tu cerchi di farlo spiegando che è un problema collettivo ti viene chiesta una soluzione individuale assolutamente e tra l'altro e questa la concludo di recente era uscito uno studio non mi ricordo sul giornale americano però avevano fatto uno studio avevano fatto un sondaggio e avevano scoperto che durante la pandemia gli uomini sovrastimavano di gran lunga la quantità di lavoro che avevano fatto in casa ci avevano chiesto a uomini e donne quanto fai in casa e lui diceva ah faccio la quanta parte del lavoro però lo chiedevano a lei diceva quindi gli uomini purtroppo siccome non sono condizionati non sono educati socialmente a prendersi cura della casa appena lavano due piatti gli sembra di aver fatto l'impresa deve averci una fila di trofei e devi dare la medaglia perché ma cioè è colpa loro fino a un certo punto diciamo che è responsabilità a me non piace parlare di colpa preferisco parlare di responsabilità una volta che hai preso coscienza di un problema è tua responsabilità risolverlo il problema è che in questo momento non c'è un'assunzione di responsabilità collettiva da parte degli uomini come c'è stata un'assunzione di responsabilità collettiva da parte delle donne perché noi sono 40 anni almeno senza contare gli altri 150 però diciamo dal femminismo della seconda andata che noi ci mazzuliamo e ci diamo il cilicio addosso e ci fustighiamo e ci flagelliamo perché non siamo brave abbastanza a far funzionare tutto e facciamo autocoscienza e non siamo abbastanza femministe o siamo troppo femministe non siamo donne abbastanza o siamo troppo donne non andiamo mai bene io difendo il diritto di ognuna di noi di essere una femminista mediocre guarda questo si tira dietro tutta una serie di altre riflessioni perché insomma l'abbiamo fatta anche con abbiamo parlato di quel migliorismo che come lo chiama come lo chiama Michela Murgia che poi ci costringe ad essere all'altezza di uno standard che a volte non ci rappresenta nemmeno non c'è l'immagine non c'è poter fallire esatto esatto poter essere ma poter essere anche crudele poter non avere necessariamente dei sentieri di uomini esatto voglio essere una femminista così così esatto cioè fare le cose al meglio delle mie possibilità e ogni tanto anche prendermi una pausa cioè anche perché ora noi ci scherziamo però il modello della performance il modello prestativo a tutti i costi oltre ad essere faticoso è un modello che appartiene a quel sistema che stiamo cercando di costruire cioè esatto il tema è quello cioè c'è una brava femminista oltre a tutto il resto deve essere anche una brava femminista esatto quindi sono sono assolutamente d'accordo no no condivido pienamente l'impostazione abbiamo avuto e tra l'altro con Lorenzo Gasparrini proprio lunedì parlavamo proprio di questa di questo vuoto di comunità che c'è cioè gli uomini hanno pochi spazi nei quali riescono a elaborare tra sé a partire anche da uno sguardo assumendo anche uno sguardo femminista trasfeminista non lo fanno perché non hanno l'abitudine probabilmente a farlo ora cominciano a crearsi degli spazi interessanti perché delle esperienze facciamo riferimento a maschile plurale ma ce ne sono tante altre lo stesso lavoro che fa Lorenzo insomma sì quindi le uomini hanno un po' il problema di essere un po' avanti con l'età quindi stanno facendo me lo dicevano proprio loro che hanno difficoltà ad attirare i ragazzi io credo che sia un problema di avanzamento del loro discorso cioè loro fanno un discorso molto avanzato e invece i ragazzi confluiscono volentieri verso l'onuna di meno o si aggregano intorno alle femministe in rete per dire cioè fanno fanno gruppo intorno a dei piccoli polvi perché si sentono accolti in qualche modo quindi non c'è la cosa un po' un po' restringente del collettivo che è come se ti chiedesse di essere già pronto per andarci in qualche modo cioè non ti puoi presentare lì con con dei limiti devi essere pronto all'azione devi essere pronto alla pugna non ci puoi andare un po' un po' femminista e un po' no e invece ci sono degli spazi cioè ci sono dei safe space diciamo in rete che si stanno creando e che sono e che stanno crescendo in maniera cioè io li vedo li vedo crescere con i miei occhi poi ci sono dei momenti secondo me proprio luminosi tipo il discorso che ha fatto Lorenzo Ruporini sul su Revenge Porn per 20 che è il canale di Sofia Viscardi e lui ha fatto un discorso veramente bello sotto i 10 minuti tutto interamente sulla questione della responsabilità maschile e secondo me non c'era molto da aggiungere a quel discorso quel discorso lì secondo me era già un discorso che diceva tutto quello che doveva dire e lo diceva al pubblico giusto perché lo diceva ai giovani e lo diceva ai maschi giovani perché il Revenge Porn è uno di quei problemi che le donne non sono tenute a risolvere esatto come i fischi per strada come la discriminazione sul lavoro tutte queste cose qua ci scaricano sempre la narrazione patriarcale prende dei problemi creati dagli uomini e li riconfigura e li scarica sulle donne cioè li fa diventare problemi delle donne ma non sono problemi nostri non li abbiamo creati noi quindi a me che ogni volta che faccio il pronto soccorso femminista su Instagram ci sono sempre ragazze che mi chiedono come faccio a rispondere a chi mi fischia dietro per strada io dico come vuoi tanto non dipende da te cioè non è che la tua risposta in qualche modo cambia un problema che tu non hai creato non risolvi tu questo problema rispondi come ti senti sicura rispondi come credi rispondi come ritieni di che ti faccia stare meglio ma non pensare che la tua risposta risolva quel problema perché è un problema culturale dei maschi se lo devono risolvere loro e non ho capito mai se questa cosa quale fa stare meglio o peggio però insomma il punto è che è deresponsabilizzante perché tu non sei responsabile di quello che fanno gli altri a te sul tuo corpo non sei responsabile di quello che delle tue risposte non devi vivere in creda alle spiri delle scalier per cui se tu non dai la risposta giusta allora hai fallito non hai non hai cambiato il mondo guarda la risposta giusta non cambia mai niente di niente mai noi per fortuna sentiamo l'urgenza di prendere parola non aver mangiato bisogna secondo me ammutolirsi per paura fa male ti fa venire tutta una serie di cioè fa male al fisico noi siamo abbiamo ereditato millenni di rabbia perché abbiamo ereditato tutta la rabbia delle nostre nonne bisogna prendere la vole andando indietro fino a Eva noi abbiamo ereditato tutta la rabbia di quelle donne perché è tutta rabbia inespressa è successo molto di rado nella storia dell'uomo di rumanità perdonatemi che le donne abbiano si siano arrabbiate materialmente fisicamente che abbiano usato violezza è una cosa che culturalmente non ci appartiene e cioè siamo anche scoraggiate dal farlo e noi abbiamo tutta quella rabbia arretrata e ce la portiamo dietro io sono convinta che noi l'abbiamo ereditata e purtroppo per fortuna purtroppo invece di farla uscire o incanalarla nel modo giusto ce la rivoltiamo contro perché ci hanno insegnato che esprimere rabbia esprimere aggressività non va bene fa male è brutto non sei una vera donna non sei una signora manco Loredana Bertè è riuscita a liberarci e da gli anni 80 che gira urlando non c'è signora appunto e Dio solo sa quanto ci prova da sempre quindi liberiamoci sono d'accordo liberiamo la nostra rabbia io dico sempre io sono io sono una signora e sono una signora col D con la maniera del boss cioè me la collo nel senso sono una signora perché ho un'età però comunque non sono una signora cioè tutte e due le cose sono vere sono la signora di Schrödinger continuano contemporaneamente scura e non grazie che ti dici che già in età non è vero non è vero non è solo non è solo non è solo 50 che è 40 per cui insomma ma anche avercela non è non è non costituisce problema perché anche di questo dobbiamo liberare non frega esattamente cioè l'alternativa non è bello e spero prima di andarmene volevo rispondere a una cosa che aveva scritto Simona se puoi far sapere le case editrici con cui sei in contatto che c'è richiesta di test in italiano su leadership femminista e leadership reticolare in giro cerco qualche ricerca accademica ma non un libro fruibile ed un pubblico più ampio allora Simona te lo dico lato mio io pubblico per un grosso editore e i grossi editori fanno degli investimenti sui libri se vedono che si è creato la necessità di un discorso ma deve essere una massa critica allora io adesso sto lavorando a una cosa in cui vorrei cominciare a introdurre delle cose di cui non ho parlato nel manuale perché è destinato a un pubblico più giovane e secondo me i più giovani certe cose possono già cominciare a fare delle cose un po' più avanzate però sono tutti embrioni pezzi cose suggestioni che io gli metto dentro anche per un po' per capire per tastare il terreno per capire cosa succede se si creano sì ma ora è vero ha creato un corso ma ora è un città ha creato un corso con Tlone sulla leadership femminile sì poi vabbè quelli di Tlone sono assolutamente un mondo incredibile da quel punto di vista tra l'altro esce fra poco ed è già preordinabile il libro di Jennifer Guerra che si chiama Il corpo elettrico 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 sì che è stata nostra ospite settimana scorsa Jennifer è assolutamente una delle persone più preparate che abbia mai conosciuto in vita mia è una persona con un metodo e una precisione straordinaria secondo me lei merita di essere seguita proprio perché appartiene alle nuove generazioni e quindi il suo sguardo è già diverso da me che sono terza ondata e quindi comunque sono legata a un certo modo di fare il femminismo però secondo me per tornare a quello che stavo dicendo questi discorsi si creano un po' alla volta cioè io sto vedendo da quando è uscito il manuale ho visto uscire un sacco di libri pop sul femminismo parità uguaglianza eccetera che sono usciti anche per anche per Zoli quindi appunto il libro di Irene Fakeris che è uscito dopo manuale eccetera e secondo me si sta creando lo spazio e ci si arriva però bisogna costruire il discorso un po' alla volta quindi a un certo punto arriverà e non credo ci metteremo tanto il momento in cui possiamo costruire anche quel discorso lì a livello pop e credo che succederà credo che succeda non credo che ci metteremo tantissimo perché poi queste cose sono un po' esponenziali come il virus del coronavirus si contagia il contagio è rapido e va molto veloce che meraviglia io ti ringrazio tantissimo Giulia per essere stata con noi così a lungo sei stata generosissima sei stata illuminante davvero è anche molto divertente perché ci siamo anche molto divertiti divertite credo però se la gente non si arrasta se a noi quando chiama no è impossibile è veramente possibile per questo non può succedere esatto questo passaggio Ilenia Pennini che ha condotto questo questo laboratorio io voglio ringraziarla perché insomma come tutte le altre donne meravigliose della nostra rete è sempre sul pezzo e costruisce questi incontri insieme a noi quindi vi ricordo che la settimana si concluderà con un incontro da non perdere con Lilia Giugni con la quale parleremo di gender washing e appropriazione del femminismo nel marketing Lilia Giugni è un'altra ospite importantissima che vi consigliamo di non perdere sabato alle 18 settimana prossima abbiamo altri due appuntamenti che vi consiglio di seguire primo giugno manifesto mestruale con Sara Lea Cerruti e poi un tema che per noi è molto importante a sessualità in relazione al genere oltre gli standard egemonici del sesso con Fabrizio Quattrini e tante testimonianze anche di attivisti e attiviste asessuali secondo me anche per la settimana prossima e per il fine di questa settimana di carne sul fuoco ne abbiamo messa come sempre tantissima la rete donne trasfeminista vi aspetta e soprattutto continuerà ad andare avanti così peggio per voi insomma fino a metà luglio grazie mille a tutti ciao ciao grazie